Salve amici bentornati. Durante il periodo autunnale abbiamo bisogno di rinforzare il nostro sistema immunitario. Venendo da generazioni contadine, forse so come farlo ed oggi lo condivido con voi. Prendo due arange e le lavo accuratamente. Le asciugo con uno strofinaccio da cucina. Poi le taglio a metà. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale Amici, attivare la campanellina, condividere il video tra amici e parenti. Spremendo estraggo il succo dalle arance. Metto il succo in un pentolino. Poso sul fornello e lascio riscaldare a fiamma alta. Fino ad inizio bollitura. Poi spengo il fornello ed ancora calda verso in tazza. Aggiungo mezzo cucchiaio di miele e mescolo accuratamente. E bevo questa spremuta due volte al giorno, al mattino ed alla sera, prima di coricarmi. E' ottima, credetemi. Mmm, che profumo. Ho 60 anni ed uso sempre questa spremuta fatta in questo modo, insegnatami dalle mie bisnonne. E credetemi, non sono mai caduta malata durante il periodo autunnale ed invernale. Ciao amici, alla prossima!